Cavalli, gare e convegni anche quest'anno nelle scuderie dell'Horse Country Resort di Oristano per il Sardegna Endurance Festival, un weekend incentrato su una disciplina sportiva tanto dura quanto fascinante. Il clou si è avuto nella giornata di sabato in cui si sono svolte le gare internazionali, unica tappa sarda del circuito internazionale su altezza Sheikh Mansour Bin Zayed Al-Nayan Endurance Festival. Un'ottantina di binomi che si sono contesi le cinque vittorie su un percorso pianeggiante con fondi sabbiosi, ma non troppo morbidi, adatti a sviluppare buone velocità di alto impatto naturalistico che si è svolto in gran parte nella laguna di Marcedì. Amazzoni, cavalieri e cavalli di ottimo spessore giunti da ogni parte del mondo che in una giornata primaverile hanno fornito prestazioni di alto livello su lunghezze che variavano dai 160 ai 90 km. Il podio per la categoria più impegnativa è stato tutto italiano. Nel fine settimana, oltre alle competizioni, si sono svolti diversi seminari tecnici sulla gestione e la salute del cavallo da endurance, dedicati agli allevatori e ai cavalieri. Si è inoltre parlato del futuro del turismo equestre in Sardegna, animato dallo stesso Horse Country che del turismo a cavallo ha fatto la sua mission. Siamo molto contenti per questa edizione internazionale, c'è i tre stelle, per la prima volta abbiamo anche una categoria molto importante che è la 160 km. L'endurance devo dire che sta diventando la disciplina una delle più importanti al mondo per quanto concerne gli sport equestri. È una disciplina che mette a dura prova i nostri cavalli in quanto una disciplina di fondo. I cavalli percorrono i 160 o 120 o 90 km, dipende da categorie. Sono sottoposti ogni 30 km dalle severe visite veterinarie con una commissione internazionale dove vengono monitorati tutti i parametri, dal respiro alle andature, al cuore. Naturalmente proseguono e portano a termine la gara soltanto i cavalli che sono in perfette condizioni fisiche. Nell'ultima giornata trasferimento l'ipodromo melone di Chirivani per la tappa italiana di galoppo della Watsaba Stallion Cup, vetrina dei cavalli arabi, grandi razziatori del galoppo e dell'endurance. Tra gli eventi collaterali l'esposizione delle fotografie di Michele Ardu e una serie di stand con prodotti artigianali ed eccellenze del territorio.